il bologna per fortuna è in champions a livello matematico così sembra essere effettivamente parlando champions league ovviamente per la prima volta nella sua storia calcistica e vi ricordo che cesare cremonini il chiamiamolo frontman o meglio il personaggio fulco del una pop questo gruppo musicale degli anni 2090 pensate che ha contribuito a celebrare questo importante traguardo suonando col suo amato pianoforte l'inno della massima competizione europea l'effetto è sublime e straordinario un cesare infatti si impegna non poco e ripeto il risultato è veramente straordinario sfavillante azzardo a dire insomma festeggiare la propria squadra del cuore come ha fatto il grande cesare cremonini secondo me è qualcosa che deve essere fatto deve essere compiuto per l'attaccamento questo si deve dimostrare la propria squadra calcistica e poi questo è considerato che la prima volta che accade questo cioè che taibonina vada in champions ha fatto bene iscrivetevi commentate questo video non vuole la società della sua privacy ma solo informare sto per questo motivo non per altri motivi grazie grazie